Gravato pesantemente, nel corso della serata, il bilancio del drammatico scontro tra due tira avvenuto oggi pomeriggio, verso le 17, lungo l'autostrada a 21 Torino-Piacenza-Brescia sulla carreggiata diretta al capoluogo Emiliano nel tratto pavesi all'altezza del casello di Casteggio-Pavia. Sotto uno dei due camion, durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo di un uomo carbonizzato, mentre un'altra persona risulta dispersa. Nell'incidente sono rimasti inoltre feriti, in maniera non grave, altri due camionisti di 60 e 57 anni, lievemente ustionato anche un vigile del fuoco che ha partecipato ai soccorsi. In seguito all'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Alessandria, si sono verificate diverse esplosioni che hanno originato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza di chilometri. La carreggiata del A21 diretta a Torino è stata riaperta al traffico nella tarda serata, mentre resta chiuso il tratto tra i caselli di Voghera-Pavia e Casteggio-Pavia dove si è verificata la collisione tra i due mezzi.